Katie sta programmando la sua prossima vacanza. Sta pensando a quello che le potrà servire per il suo viaggio e in pochi clic ecco fatto, come sempre. Ma per la prenotazione dell'hotel l'esperienza sarà così semplice? Sì, perché l'hotel che ha catturato la sua attenzione ha scelto Fusion, la nuova generazione di siti web di The Edge. Grazie a Fusion, Katie rimane nel tuo sito per tutto il processo di prenotazione. La pagina di prenotazione non si apre più in una nuova finestra, con un indirizzo diverso e con un design che non rispecchia la tua immagine. Katie è convinta e decide di prenotare il suo soggiorno in questo hotel. Un clic ed è già nel suo carrello. Si chiede se l'hotel è nella giusta posizione. Grazie a Fusion, Katie può mettere in pausa la sua prenotazione in qualsiasi momento e ricominciare con un solo clic. Il tuo sito web e il motore di prenotazione sono ora perfettamente integrati, grazie a Fusion di The Edge.